a quando va no a quando va no a quando va no a quando va no ecco serviti col tile bravo ma che succede che succede se ciò felice sta andando possibile è il mio amore è il suo filo drammatico no a me che mi dispiace ma pure a me l'analisi sono uscito a volo eh perché qua su questa versione sono tutti matti